Nel nostro ESATTO e SESTO SENSO sono i migliori sistemi di focussing, hanno condizionato le stelle stelle stelle, ma hanno un design diverso. Quale si chiede? I due hanno il porto USB-C per la connessione di computer, il porto per collegare l'arco rotatore opzionale, il porto di potenza 12V, il porto per la temperatura di temperatura, il porto, l'applicazione, e la connessione di Wi-Fi in modo da controllare da un smartphone o tabletto. Ma il SESTO SENSO è un motore di focussing robot che abbiamo designato in modo da connessione facilmente con il tuo focussor del telescopio e l'utilizzo in modo da proprio focussare il tuo telescopio, mentre l'ESATTO è un micro focussor completo che è perfetto per un telescopio che non ha una capacità molto precisa e un focussor di capacità alta. In questo modo, suggeriamo l'utilizzo del SESTO SENSO se vuoi usare il tuo telescopio sia per la visualizzazione o per l'astrofotografia. In questo modo, installi il SESTO SENSO sul tuo focussor originale e puoi mantenere il tuo focussor originale per l'astrofotografia. Ma se hai una camera e vuoi usare il tuo telescopio per l'astrofotografia, puoi installare l'ESATTO invece. L'ESATTO è perfetto per telescopi come Schmidt-Cassegrain o Aplanatic Schmidt-Cassegrain dove puoi mantenere il focussor originale e poi puoi focussi precisamente con l'ESATTO evitando qualsiasi shift di focussor. SESTO SENSO o ESATTO Robotic Focusing Motor o Robotic Micro Focuser In ogni caso, hai le migliori soluzioni di focussor. Il nostro canale è www.saprofotografia.com